ciao amici sappiamo tutti quanto è fastidioso fare ricerca dei canali soprattutto per quanto riguarda un decoder satellitare i trasponder la frequenza del satellite proprio per questo il nostro tvsat digiquest hd viene in vostro aiuto perché ha l'aggiornamento automatico di tutti quanti i canali ovviamente facenti parte della lista tvsat aggiornamento automatico dei canali che effettuando una scansione una ricerca dei canali quindi permetterà il decoder di avere la lista dei canali secondo un ordinamento logico quindi rai 1 al numero 1 rai 2 al numero 2 rai 3 al numero 3 altra cosa importante che essendo un decoder easy hd rai 1 rai 2 e rai 3 non saranno in versione standard al numero 1 2 3 ma saranno rai 1 hd al numero 1 rai 2 hd al numero 2 rai 3 hd al numero 3 grazie a questa funzione voi non avrete più bisogno di stare con il telecomando in mano a girare nel menu alla ricerca di un canale una volta trovati i canali a voi necessari abbiamo la nostra smart card inseriamo la nostra smart card che è la chiave per aprire i nostri canali codificati perché alcuni saranno codificati e la possiamo tranquillamente inserire girandola con il chip verso l'alto in uno dei due delle due fessure tranquillamente ovviamente una fessura è per la carta tv sat qualsiasi essa sia l'altra è libera per qualsiasi tipo di smart card in abbonamento in codifica conax con agra vision in vostro possesso per qualsiasi informazione in più potete tranquillamente chiamare il nostro call center